Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto lampade per proiettori TV, lampada per proiettore ALDA, PQ 42200U 42200 per il proiettore Sony KDF55WF655KDF55XS955. I nostri ALDA PQ lampade per proiettori premium corrispondono i più elevati requisiti tecnici in termini di contrasto, luminosità e durata. Rigorosi controlli di qualità garantiscono la massima qualità e affidabilità. Lampada per proiettore di alta qualità ALDA PQ, prodotta da produttori ad alta capacità. Prodotti di marche di qualità collaudata con test di funzionalità, luminosità e contrasto. Garanzia del fornitore. 200 giorni la durata e la luminosità è equivalente a lampade originali. Proiettori supportati. Sony KDF55WF655KDF55XS955KDF60WF655KDF60XS955KDF e 55A20KDF e 60A20. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.